Uno dei comportamenti d'amore delle donne è che si appoggiano sul marito. Negging significa criticare un pochino, no? Ah sì, punzecchia, no? No, come... Ed è molto importante da capire che questo è un comportamento d'amore. Se inizi a combatterlo, diventa davvero difficile. È assolutamente parte della femminilità. È un'espressione della femminilità. Quindi, l'uomo giovane, si sente attaccato. E lo prende seriamente e dice questo cos'è? Non mi capisce. Non ha il diritto di dirmi sempre questo e quello. E per trovare la scorciatoia, questo tipo di comportamento, imparate a conviverci. Questo è una delle limitazioni del matrimonio. E non troverete nessun matrimonio senza questa parte. Anche i cosiddetti matrimoni felici. Se io dico ad esempio a Shesha Hafodin, Shesha Hafodin, Habiba, sometimes she makes eh 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 to you. He has to say eh 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 eh. She does it. And they are very little time married. And they are very little time married. They have no real trouble, let's say. Basically they enjoy each other and each one of them can be very good by himself or so. Ognuno di loro sta anche star bene da solo. So it's just alright. It's alright. It's alright. They have children. They have nice places and everything. And Habiba has fantastic hobby. Yeah. And Habiba ha degli hobby fantastici. Which makes not only her happy. So everything is like a model almost no? But there is necking. And that is something you accept. And in that moment let it go and finish. The necking when you open the door of yourself. You know it goes just past by. It is like a cat. You know it goes through your legs and goes somewhere there. It comes back and goes and comes and goes. And you only make sure that you don't stumble over her. And that is it. Okay. And the more relaxed you become the more shimmery. The more the quantity comes down. But it will not disappear. It will not finish. It's very good. There must be necking. It's part of feminine expression. Okay. And the ladies. Enjoy. Enjoy the necking. Enjoy the necking. Enjoy your necking. Okay. That's it. It saves you many years of therapy. Thank you very much for your beautiful attention. Thank you very much for your attention. This really, I feel very much pleasure to be with you. In questo giorno perfetto è perfetto, non è? Siete la compagnia perfetta. Non avrei potuto sceglierla meglio.